la mattina di voi è pronta la mattina di voi è pronta la mattina di voi è pronta ma non c'è più si qua sono qua 18 gendario dai dai sei stata in maglia stai a mangiando ci sto portando il piatto io dai aspetta non potremmo essere qui e dai si trova come maglia come ugnata non c'è ma io 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 ti sto facendo mi 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 ora te lo vido? io fattano come te lo vuoi? non c'è la visita su? da una tavola no! è pietiglia è pietiglia è pietiglia cazzo il biscotto ma c'è un'ainetta ma non c'è un'ainetta non c'è un'ainetta non c'è un'ainetta carino ��i Grazie a tutti. 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 Bello. Cintura. 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 Cintura.